ciao sono luca colombo spesso i miei seminari sottolineo l'importanza di avere una partita iva o di essere iscritti a una cooperativa per svolgere l'attività di musicista in maniera professionale io per esempio sono iscritto a zen art cooperativa di cui sono completamente soddisfatto per cui ve la consiglio un saluto e buona musica ciao